Buon 8 marzo, buona festa della donna. Grazie ovviamente a Isabella Rauti, a Cinzia Pellegrino per aver voluto organizzare questo evento e per essersi impegnate in questi giorni con i loro dipartimenti in tante iniziative legate dallo stesso filo rosso sostanzialmente. Superare i riti celebrativi fini a se stessi, raccontare invece storie di donne e patriote che si sono affermate nel loro campo grazie al talento, alla passione, alla competenza. È per questo che Fratelli d'Italia ha voluto istituire il premio Eccellenza Donna, che oggi sarà consegnato alla professoressa Maria Rita Parzi, ovviamente la ringrazio, le faccio i miei complimenti, e a tante altre donne che si sono distinte in campo accademico, professionale, culturale, artistico, sportivo, nel mondo del volontariato. Voi sapete che io sono sempre stata contraria alle quote rosa, all'idea che le politiche al femminile fossero una specie di ghetto. Credo nel merito, credo che le donne abbiano gli strumenti per misurarsi e darmi pari con gli uomini e combatto i tabù nei quali molto spesso cadono loro stesse, che a volte non credono di potercela fare a competere con gli uomini e finiscono per competere necessariamente tra di loro. Questo tabù io non l'ho mai avuto, ho cercato sempre di fare squadra con le donne, non ho mai avuto problemi a confrontarmi con i miei colleghi maschi, certo le resistenze ci sono, è vero quello che diceva l'allora sindaco di Ottawa, Charlotte Whitton, l'ho detto tante volte, le donne devono fare ogni cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà, ma per fortuna non è difficile. Ma io credo in una società dove uomini e donne con le loro differenze, con le loro peculiarità siano alleati, non nemici. Soprattutto in questo periodo così difficile, le donne stanno pagando il prezzo più alto in questa pandemia, in termini occupazionali, economici e ovviamente familiari. E' eclatante il dato sull'occupazione, nel 2020 l'occupazione è scesa di 440 mila unità, ma 312 mila erano donne. Un dato che vogliamo ricordare perché dietro questi numeri ci sono volti, storie, famiglie, una realtà che alle istituzioni sembrano interessare, di cui anche il governo sembra non occuparsi, a partire dal tema del recovery plan. Noi continuiamo a chiedere che i fondi europei siano usati per incentivare l'occupazione femminile, per potenziare le infrastrutture sociali, per creare welfare di prossimità, per aiutare i più fragili. Abbiamo chiesto un investimento straordinario sulla famiglia e sulla natalità, perché nessuno stato sociale può sopravvivere all'inverno demografico e al crollo del tasso di fecondità nel quale attualmente ci troviamo noi. Vogliamo costruire un welfare a misura di famiglia, introdurre il reddito d'infanzia, mettere in campo strumenti efficaci di conciliazione vita-lavoro, avviare un piano straordinario per gli asili nido gratuiti, che siano aperti fino alla sera, che siano aperti anche in estate a rotazione. Vogliamo raddoppiare i posti a tempo pieno nella scuola primaria. Abbiamo decine di proposte. Ma non solo. Noi non possiamo neanche dimenticare la faccia oscura e nascosta dalla pandemia. Il mio pensiero va ovviamente alle tante donne uccise da chi diceva di amarle, ai loro figli che hanno lasciato, ai familiari che chiedono giustizia. Dobbiamo essere tutti parte attiva, aumentare le reti di prevenzione, proteggere le donne che chiedono aiuto e trovano il coraggio di denunciare. Pretendiamo la certezza della pena perché si punisca senza sconti chi si macchia di reati come questi. E poi non ci stancheremo mai di portare avanti la battaglia culturale e educativa sul rispetto delle differenze. Fratelli d'Italia C'è, sarà sempre in prima linea su questi temi. Celebrazioni e ricorrenze sono importanti ma non servono a niente. Se a questi non seguono cambiamenti reali e misure concrete, possiamo e dobbiamo uscire da questa difficile situazione. Le donne sono il motore della ripresa. Solo così potremo festeggiare davvero una buona festa della donna.